Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Edoardo Gori Oggi finalmente siamo in un nuovo videovlog Eh, non lo facevo da abbastanza tempo, mi vedete così? Sapete perché? Ero sudato, la mia nonna, gentilmente, è preso il buono talco, me l'ha voluto dare Soltanto non c'era il tappo, e adesso mai non date tutto Collo, braccia, maglia, gambe, tutto Però farò il videovlog da così Lasciate un bel like Allora ragazzi, siamo tornati Vi dirò un po' di news nuove Come avete potuto notare nel vlog di ieri, il 17 settembre, il pesto 2011 Hashtag 2, il gol di Gilardino neanche Ibra Che forse l'avete visto abbastanza bene, però va bene lo stesso Vi ho detto che il 31 ottobre uscirà uno speciale con i miei amici Una volta registrò con questo telefono, però sta molto particolare O uno stoppa il video e lo vede da un'ingolazione brutta Intanto è un'ingolazione brutta Oppure Lo faccio soltanto sul canale GB9288 Allora ragazzi Il video sarà solo in GB9288 Questo è il deciso I due film dell'orrore Comunque raga Dicevo Poi Oggi Ho fatto Ho dovuto fare la crossbar challenge Ho fatto tre traversi Soltanto che a un certo punto la stade camera si è spenta Quindi ancora non abbiamo raggiunto 5 like Sicché Lo farò finché raggiungiamo 5 like O scure 6 Speriamo, facciamo le corna Comunque raga Volevo dirvi che Nella crossbar challenge 5 like Verranno usati Le canzoni Il Mismo Sol E Wiz Khalifa See You Again La prima canzone sarà Il Mismo Sol E poi See You Again La canzone moderna del 2015 Che a me piace di più È See You Again Poi c'è Il Mismo Sol No ragazzi Perché l'inquadratura è diversa Sapete dove siamo? Sul terrazzo di mia nonna Con le legame fuori Yeee Allora Lì Qui c'è un terrazzo Dove si affaccia A tutto il paronama Di Poggio e Cagliano Lì ci sono i miei piedi Lì c'è l'asilo in cui andavo alla palestra Quello là Poi tutti questi cipressi Là in casa E quello lassù C'è quel caschetto da rugby E Praticamente Dentro casa Non so se vedete bene C'è il mio nonna Che ne sta guardando Comunque Spero ragazzi Allora Questa è la maglietta Dei We Love Italia Sono mondiale Che fa cagare l'Italia Quindi non ti fate l'Italia Ti fate l'Inghilterra Qualche cosa forte Dicevo Subito 4 like Un nuovo video Vlog Noi ci vediamo sempre Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao